soluzione per diminuire il carico contributivo IMSS artigiani e rimanere comunque iscritti all'albo artigiani perfetto, allora domanda carina che va un po' contestualizzata allora praticamente mi sono capitate delle situazioni in cui un imprenditore è in qualche modo obbligato ad essere iscritto comunque sia all'albo artigiani perché magari fa un'attività che prevede un albo artigiani e quindi comunque voler ridurre il carico contributivo IMSS solo che nel momento in cui noi vogliamo essere iscritti all'albo artigiani abbiamo delle regole, delle limitazioni che appunto limitano diciamo il risparmio fiscale perché se io devo essere obbligato ad essere nell'albo artigiani devo avere almeno il 51% delle quote intestate a me intestate a me come socio lavoratore e in più praticamente la maggioranza degli amministratori deve essere un socio lavoratore essenzialmente per quanto riguarda il carico contributivo e come ridurlo noi imprenditori dobbiamo ricordarci che se io voglio essere anche obbligo di legge ovviamente oppure perché voglio essere iscritto all'albo artigiani il 51% delle quote deve essere intestato a me praticamente come socio lavoratore e comporta tra virgolette il problema che non è un problema però perché le regole sono così che io devo assoggettare ai contributi IMSS artigiani almeno il 51% degli utili della mia società perché appunto io per obbligo di legge devo avere il 51% delle quote bene perfetto quindi mi è capitato qualche settimana fa di ragionare su una strategia con un imprenditore per gestire questa cosa al meglio e tendenzialmente la strategia è quello di separare praticamente la quota di possesso che io ho nella quota delle mie serrelle dalla percentuale di utili che è una cosa che si può fare cioè nelle serrelle noi abbiamo l'opportunità di avere una quota all'interno della società che può essere anche del 51% ma di comune accordo con tutti gli altri soci magari io come socio lavoratore mi posso prendere il 5% degli utili che ovviamente è uno svantaggio perché posso prendere solo il 5% degli utili però il vantaggio è che i fini contributivi IMSS per quanto riguarda in questo caso l'IMS artigiani ok io devo calcolare i contributi totali da pagare in un anno non sul 51% degli utili ma sul 5% degli utili quindi la strategia fiscale che io consiglio è per chi è obbligato a essere nel mondo dell'artigianato almeno avere il 51% di quote ok perché così assolviamo l'obbligo dell'albo artigiani detto questo io e l'altro socio che sia il conige, un parente eccetera comunque avere l'accordo che il mio 51% di quote in realtà vale il 5% degli utili in questo modo così facendo quando il mio commercialista calcolerà il quadro RR per calcolare il conguaglio di contributi IMSS in sostanza ecco che lì sopra non metterà il 51% di utili ma metterà il 5% degli utili e quindi tendenzialmente pagherò sempre e solo i contributi fissi minimi artigiani non pagherò l'eccedenza diciamo su tutti quanti gli utili in generale ok? perfetto quindi questo è quello che volevo condividere in questa domanda ehi cosa fai? Sei ancora qui? vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo ci vediamo dall'altra parte ciao a presto